Per comprendere la ragione per cui ho scelto di utilizzare Cleos per la gestione del mio lavoro quotidiano deriva dal fatto che io avevo già fatto mia la scelta di lavorare quanto più possibile in cloud, quindi dare allo studio un impronte il più possibile digitale. Il passaggio a Cleos mi ha consentito di concentrare il lavoro e le informazioni relative alla pratica in un unico ambiente in cui non solo svolgevo il lavoro ma inserivo informazioni dettagliate circa l'attività svolta, i rinvi di udienza oppure le scadenze relative al singolo fascicolo con l'ulteriore facilità che io potessi in tempo reale verificare lo stato di una pratica, quanta attività e quale attività avessi svolto per la singola pratica, quale fosse da svolgere, quale fosse in scadenza. L'interfaccia grafica di Cleos è molto intuitiva, la home di Cleos ti consente già di accedere a tutte le informazioni concernenti tutte le pratiche, quindi le prossime scadenze, l'attività da svolgersi, le ultime pratiche sulle quali si è svolto del lavoro per cui ecco questo ti dà una visione a 360 gradi dei fascicoli di studio. Oltre a questo ampio grado di dettaglio che già Cleos ti fornisce, vi ha anche questa un'ampia possibilità di personalizzare ulteriormente il modo in cui queste informazioni possono essere inserite e il modo in cui queste informazioni possono essere visualizzate. Una gestione classica dello studio può poi esporre a una serie di inconvenienti non trascurabili. Personalmente mi è capitato di archiviare dei fascicoli in locali, in locali di archivio, che poi sono stati interessati da un problema di umidità e quando nel futuro ho dovuto, ecco nel prosieguo ho dovuto in qualche modo consultare quei fascicoli, ho ritrovato della carta compattata che non era più fruibile. Problema ovviamente che è del tutto assente in una gestione del lavoro in cloud. Un ulteriore vantaggio di Cleos è il fatto che lavori con una banca dati integrata e questo dà la possibilità di salvare gli esiti di una ricerca relativa alla singola pratica all'interno della pratica, per cui con quest'ulteriore possibilità ovviamente di poter consultare gli esiti di questa ricerca quando dovesse tornare utile in un futuro nella redazione degli atti, degli scritti difensivi. Mi è capitato più volte di avvalermi dell'assistenza Cleos e ho sempre riscontrato questa velocità, dicevo anche questa puntualità nell'individuazione del problema e questo dà la possibilità ovviamente di risolverlo nel giro di pochi minuti. L'utilizzo costante di Cleos poi ti consente di capire, di comprendere che non è solo un gestionale preimpostato, ma è un ambiente che può essere ulteriormente personalizzato e fatto proprio e che può seguire di pari passo l'avvocato nello svolgimento del proprio lavoro anche laddove questo lavoro nel futuro dovesse cambiare, dovesse modificarsi o dovesse perfezionarsi, cioè alla fine si ha proprio un prodotto sartoriale, quasi fosse un abito su misura che segue l'avvocato nello svolgimento della sua attività sia quotidiana che nel suo evolversi. Grazie Grazie Grazie